Ciao ragazzi, Mirko si nasconde dietro il nostro gioco che dobbiamo giocare E come si chiama il gioco? Acchiappa la polpetta Ok, dai, lo apriamo, eccolo qui il nostro acchiappa polpetta Vediamo, vediamo, vediamo Mamma mia, mamma mia, quante strumenti abbiamo qui? Sono le polpette, sono le polpette Dove sono gli occhi? Non lo so dove sono gli occhi, qua sono gli occhi, guardali qua No, con quello dobbiamo acchiappare le polpette Mamma, ecco le carte Le carte ci sono Ma guarda dentro Allora, che sai? Ecco le nostre polpette Ecco le nostre polpette Per iniziare la nostra partita devi tirare l'osso, dai, tira l'osso Tira l'osso Dai, tira l'osso, dove dobbiamo scaricare il nostro polpette dentro Tira, tira, tira tutto, 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 tutto Ecco, fatto Lascia l'osso Io sono una Ancora Ancora, adesso dobbiamo andare a raccogliere tutte le polpette per terra Ragazzi, questo non è un gioco da giocare sul tavolo È un gioco da giocare a terra Sì Sì Andiamo a raccogliere tutte le palline, dai Allora, noi abbiamo preparato qui dei provvedimenti Perché altrimenti volano via tutte le palline, sì? Ah, non mi mangiare la mano Dunque, abbiamo i nostri cagnolini Sì Tu che colore hai scelto? Zorro E io viola Dunque, adesso Mirko, tira la zampa Mi piace la zampa No Devi aspettare che posso Ecco Adesso vai No, per te Su, sul tavolo Non dentro Dai, 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 dai Proviamo di nuovo? No, io prendo tutti Tu prendi tutti Dai, dai Tiriamo le orecchie Li svuotiamo Ti aiuto No, lo faccio io Dai, svuota Ma è giocato solo Come da solo? Sì Tieni E che gara è? Chi vince e perde? No No? No, dai Sono rimaste ancora meno palline perché gli altri l'avevano perse Dai, pronti? Mirko, ascolta Dai, 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 per terra Io non arrivo più 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 Hai vinto Mirko Io ho solo due palline Ho solo due polpette Guardale Sono lì Due polpette Ma non è un altro gioco? Allora Iscrivetevi Guardate Ma che è successo qui? Incidente Incidente? Ha chiuso macchinine stanotte? Ma quante lamborghine hai qua? Quante sono le lamborghini? Ve le conti? No Hai deciso di aprirle tutte? Ma sono delle macchine Sono delle macchine di Siku Ma sono bellissime Sono indistruttibili Mica quelle di plastica, vero? Eh? Abbiamo le macchine di taxi Eccoli qua Abbiamo le lamborghini gialle E le lamborghini bianche Che lui ha già aperto Abbiamo dei trattori Guarda Uno, due Tre Tre tipi di trattori Anche qua Abbiamo gli autobus della scuola Scuolabus Ma cos'altro abbiamo? Abbiamo queste Ferrari qui? Mamma Queste sono Ferrari? No No? Scritto tu un po' Mamma Mamma Cos'è una macchina di tutta corsa? Mamma Uno Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Tredici Quattordici Quintici Ma che ci fai con tutte queste macchine? Quante sono pagate? Sono pagate? Sì Da chi? Li pazzi Li pazzi? Madonna Mi hai detto pazzi Sì Ah sì? Sì Abbiamo finito le Lamborghini? Sì Abbiamo finito le Lamborghini? Sì Aspetta un attimo Anche qua da lì Li pazzi Anche queste jeep di pazzi E tu hai intenzione di aprire tutte queste macchine? Sì Mamma C'è anche il legno? Ma dove le mettiamo tutte queste macchine? In fila In fila E il parcheggio? Mmm Ecco Il legnetto Il legnetto Non toglierlo Non aprirlo Non lasciarlo stare Se no li perdi Guarda che si fa così Si mette qui Lo c'hai Lo c'hai? Guarda Lo c'hai Di 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 Deve aprire qualcos'altro? Eh? Che prende tutte queste macchine E vince Uno, due, tre Nooo Prende Nooo Una Una E tu hai detto quella gialla Prende quella gialla Prende quella gialla Prende quella gialla Che è il macello 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 Mamma mia Quante ce ne so? Ma io non lo so Ma io non lo so Quanti hanno lì tutto? Mamma In questo macello In questo macello c'è pure un incidente Si ci credo E ci credo Che c'è un incidente qui Ma la pera La lamborghine non può andare qui? Si Davvero? Si Ma due ruote Ma che macchina è? I pazzi vanno così Ah i pazzi vanno così Allora io vedo Nooo Non posso? No Perché? Perché Prende questa Ah io devo prendere questa? Va bene Apriamo un'altra che macello, che macello ancora mamma, 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 mamma guarda che Pacho e io e io e io e io da solo facciamo un incidente? no no c'era un'altra macchina, è già la jeep che fa soprattutto le Lamborghini, mamma e io faccio il salto non vale, non posso giocare ma lo sai che il taxi apre gli sportelli si aprono gli sportelli al taxi non ci credi, l'hai visto? wow vai a vedere anche ai ragazzi è un Mercedes questa è la macchina Mercedes taxi taxi però è della Mercedes è il segno della Mercedes deve essere qua mamma 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 guarda questa mamma fai scuso ti chiedo perdonte non l'ho fatto apposto non l'ho fatto apposto non lo doessi preoccupare no non l'hai fatto apposto non lo doessiی video dai ragazzi mi raccomando fate più piano con le macchine così è esagerato iscrivetevi e guardate altri video